L'estate non molla la presa sull'Italia che nel prossimo weekend dovrà fare i conti con una nuova breve ondata di caldo per la rimonta del bollente anticiclone nordafricano che garantirà tanto sole ma anche un nuovo aumento delle temperature che di giorno torneranno ad oscillare tra i 28 e i 33 gradi con i valori più elevati sul versante tirrenico dove toccheremo i 33-34 gradi e in Sardegna la regione più calda addirittura a punte di 35-36 gradi valori fino a 5 gradi al di sopra delle medie stagionali, si tratta infatti di temperature da piena estate tipiche dei mesi di luglio e agosto ma occupiamoci della giornata di sabato andando a vedere l'immagine del satellite virtuale che ci mostra un'Italia completamente sgombra da nubi segnale che vi si è già insediato l'anticiclone nordafricano se vediamo infatti la previsione ecco il sole tornare protagonista su tutta l'Italia disturbato solo da qualche rovescio temporale sulle Alpi e sul Piemonte occidentale le temperature come anticipato torneranno ad aumentare soprattutto sulle regioni centrali dove toccheremo punte di 31-32 gradi massime comprese tra 25-30 gradi al nord, al sud e sulle due isole maggiori e con questo concluso ma per tutti gli aggiornamenti come sempre vi invito a seguirci sul nostro sito meteogiuliacci.it grazie a tutti